In che modo è riuscito comunque a sviluppare la sua regia rispetto a un lungometraggio? Io penso che, a mio parere, ogni storia ha la regia che si merita. Non credo che ci sia tantissima differenza, soprattutto ultimamente tra mettere in scena un lungometraggio classico, come lo intendiamo, un film per la sala o un episodio oppure tutta una serie per le piattaforme. Dipende poi da quello che vuoi raccontare. Qua, a differenza di esperienze che ho fatto con il mio film precedente, o semplicemente mi sono adattato al racconto, alla sceneggiatura e soprattutto a quello che le autrici volevano raccontare. Poi logicamente il formato, mi riferisco a Love Club, è un formato di episodi molto brevi, intorno ai 30 minuti. Per cui forse c'è un ritmo diverso, bisogna tralasciare alcune cose, però ecco non credo che ci sia poi tantissima differenza. La differenza forse è davvero nella durata di quanto tempo hai a disposizione per raccontare una storia. Ok, l'avete fatto molto bene a parere mio in ogni singolo episodio. Continuo con una domanda. Di recente, negli ultimi anni, non in Italia ma comunque a livello internazionale, su diverse piattaforme di streaming, abbiamo visto molta produzione riguardante il mondo LGBT o comunque anche in modo un po' più parallelo, serie di grandi successo come Pose o anche Euphoria in un certo senso. esteticamente Love Club ha molto a parer mio di alcune delle serie più di successo, soprattutto tra la generazione Z. C'è stata effettivamente qualche produzione a cui si è ispirato anche solo a livello più formale estetico o è proprio attratto ispirazione veramente da quella che è la scena italiana, la scena milanese? Io cerco di non guardare niente prima di iniziare a girare proprio per non essere influenzato poi, perché ci sono delle serie molto belle, meravigliose ed è facile poi voler, non copiare, ma voler attingere a qualcosa, prendere. E quindi prima di girare di solito non guardo niente, ho cercato appunto di evitare di guardare le serie più belle che ci sono in circolazione in questo momento. C'è una grossa differenza tra la serie tv in Italia e all'estero, soprattutto quando si racconta un mondo, una realtà, una tematica come quella che abbiamo affrontato in Love Club. In Italia le serie che hanno affrontato appunto questo argomento sono soprattutto serie teen, qua invece l'intento era mettere in scena dei personaggi più adulti e quindi anche più consapevoli del proprio percorso e anche della propria identità. Una domanda per Alessio. Come è stata questa esperienza con il resto del cast, con il regista, proprio a livello esperienziale, tecnico? Come ti sei trovato? In che modo adesso, dopo aver girato Love Club, ti senti anche maturato artisticamente? Allora, diciamo che per me è stata davvero una scoperta, quella di… mi fa ancora strano dire che sono un attore, quindi per me è davvero una vera scoperta. E devo dire che mi sono trovato molto bene, quindi c'è sotto la guida di Mario, poi con tutta la troupe in realtà, quindi non parlo solo di cast, ma parlo di tutta la produzione, no? Quindi a partire anche da makeup, costumi, acting coach, mi sento veramente supportato e guidato in questa esperienza. Mi sento cresciuto umanamente, più che… non so ancora se definirlo artisticamente perché non avendo una formazione in tal senso, però umanamente sì. Devo dire… mi sento di… sì, di aver, come dire, aperto una porta che non sapevo di avere in casa, ecco, quindi… È stato per me un momento di scoperta, quindi sì. Molto bene. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.